buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di io non mi rassegno la rassegna stampa commentata l'italia che cambia oggi facciamo una panoramica di come vari paesi vari paesi al mondo stanno affrontando o provando ad affrontare il percorso di decarbonizzazione ovvero di fuoriuscita dai combustibili fossili lo facciamo partendo dal regno unito passando alla cina al giappone alla dinmarca infine parlando del picco del petrolio cominciamo comunque subito appunto parlando proprio del regno unito perché c'è un articolo sul rinnovabili.it che spiega come il premier britannico boris johnson mentre alle prese con le fasi finali della brexit e probabilmente per rendere più attraente la scelta di abbandonare l'unione europea stia improvvisamente alzando anche gli obiettivi climatici di riduzione delle emissioni abbiamo già parlato qualche giorno fa del piano britannico per la ripresa verde e la fuoriuscita dei combustibili fossili un piano con diversi aspetti interessanti e altrettanti aspetti controversi tipo il nucleare oppure tipo la cosiddetta carbon capture ovvero la cattura di carbonio direttamente dall'atmosfera ecco ieri ha aggiunto questo piano boris johnson ha aggiunto a questo piano un nuovo obiettivo climatico per il 2030 che è quello di tagliare le emissioni del 68 per cento rispetto ai livelli del 1990 che è un obiettivo abbastanza ambizioso ovviamente è ambizioso se lo paragoniamo a quelli agli obiettivi degli altri paesi non se lo paragoniamo o se lo commisuriamo alla gravità della situazione climatica attuale per la quale servirebbero obiettivi ancora più ambiziosi ma comunque diciamo rispetto alla media global di quello stanno facendo gli altri paesi è sicuramente un obiettivo ambizioso tant'è che nel commentare alla misura lo stesso johnson ha affermato che il regno unito sta assumendo un ruolo guida nel nella lotta ai cambiamenti climatici e quindi nella trasformazione della propria economia che sta avvenendo nella maniera più veloce insomma è il più veloce al mondo al trasformare la propria economia questa dichiarazione mi ha fatto un po riflettere perché mi ha dato la sensazione che si stia scatenando una sorta di competizione globale un po come era per la conquista dello spazio a chi compie più velocemente la transizione ecologica il che può sembrarci una buona notizia ma in realtà non lo è così tanto perché capisco che la competizione fra gruppi sia una leva molto forte all'azione per noi esseri umani ma nel caso di problemi globali come la crisi ecologica potrebbe essere un po un'arma a doppio taglio sia perché la competizione premia chi fa proclami eclatanti più di chi invece fa cose sensate e che magari però sono difficili da comunicare sia perché la crisi ecologica richiede un enorme sforzo di collaborazione per trovare delle soluzioni condivise che ovviamente un clima competitivo rende praticamente impossibile quindi insomma non è una gara che arriva prima questa qua è semplicemente un sforzo collettivo che tutti siamo chiamati a fare dai dagli stati alle unioni di stati ai comuni alle singole persone per far fronte alla crisi ecologica e climatica comunque sempre su rinnovabili cambiando argomento sempre sul sito rinnovabili.it c'è un altro articolo dedicato invece alla cina che si sta muovendo un po nella stessa direzione del regno unito avevamo parlato dei proclami green di xi jinping ora sono uscite anche le linee guida per quanto riguarda gli investimenti all'estero cinesi nell'ambito della belt and road ovvero la cosiddetta nuova via della seta che sarebbe questo progetto di costruire una serie di infrastrutture sia marittime che terrestri che dovrebbero creare dei nuovi corridoi commerciali per collegare l'asia con l'europa e con l'africa sostanzialmente ecco queste linee guida dicono semaforo rosso per il carbone e semaforo verde per le energie rinnovabili anche qui un segno interessante un buon segno sicuramente necessario se pechino vuole centrare l'obiettivo appena preso di raggiungere la neutralità climatica entro il 2060 anche se si tratta di piccoli passi soprattutto perché queste linee guida si applicano solo sugli investimenti all'estero e non su quelli interni in cui il carbone fa purtroppo ancora la parte del leone nella produzione di energia elettrica cinese considerate che al momento la cina ha attualmente rilasciato autorizzazioni per installare almeno altri 250 gigawatt di centrali a carbone entro il 2025 e quindi finché pechino non renderà noti i suoi target climatici per il 2030 i dettagli del piano quinquennale quello fra il 2021 e 2025 che sono entrambi attesi fra la fine del dicembre 2020 e il marzo 2021 non sarà chiaro quanto effettivamente il governo voglia impegnarsi davvero nella strategia di fuoriuscita dal carbone almeno in patria e poi non sappiamo neanche per tornare a queste linee guida appena uscite quanto questo rapporto sarà tenuto in considerazione perché sebbene si tratti di un documento ufficiale del governo non si è ancora espresso non si è ancora pronunciato il ministro del commercio la cui parola sicuramente su un tema come la nuova via della seta ha un peso non indifferente comunque spostiamoci invece in giappone dove il paese ha approvato una legge in realtà non è vero non l'ha proprio ancora approvata diciamo c'è stato un un annuncio che il giappone fissa una scadenza al 2030 per la vendita di automobili con motore a combustione interna l'annuncio non ha in realtà ancora un'ufficialità politica nel senso che appunto non è stata ancora approvata la legge ma il governo sembrerebbe andare in quella direzione anche se probabilmente l'addio definitivo ai combustibili fossili all'interno della mobilità giapponese sarà da posticiparsi di cinque anni nel 2035 perché in quei cinque anni saranno ancora consentita sarà ancora consentita la vendita di auto ibride ovviamente qui parliamo di vendita quindi vuol dire che passeranno ancora diversi anni prima che poi non siano più in circolazione e magari siano anche se anche proibita la circolazione delle auto con motore a combustione interna comunque sostanzialmente a partire dal 2030 potranno essere vendute solo auto elettriche o a idrogeno o ibride e dal 2035 solo auto elettriche o a idrogeno fra l'altro sembra che il giappone stia puntando molto sull'idrogeno il che non è probabilmente un'ottima idea ne abbiamo già parlato in qualche video diverse settimane fa comunque fatto sta che la buona notizia è che verranno proibite le macchine con motore a scoppio spostiamoci in danimarca ci avviamo verso la fine della puntata perché un articolo del post invece spiega che il paese vieterà la ricerca sui nuovi giacimenti di petrolio di gas naturale nel mare del nord le concessioni attuali che sono attualmente in vigore sulla ricerca di questi nuovi giacimenti resteranno valide fino al 2050 ma di fatto non ne verranno autorizzate di nuovo è una delle misure più incisive approvate finora dal paese che è il principale produttore di petrolio dell'unione europea non dell'europa nel senso sono in europa ci sono la norvegia e il regno unito che producono molto più petrolio della danimarca però non fanno parte dell'unione europea se restiamo nei confini dell'unione europea la danimarca è effettivamente il maggiore produttore dicevamo una misura incisiva sicuramente anche qui fino a un certo punto nel senso che come mi facevate anche notare nei commenti dell'ultimo video pare che non ci sia rimasto tutto questo petrolio e gas naturale là sotto e aggiungo pare anche che non abbia più senso neanche tanto più senso andarlo a cercare dal punto di vista economico perché quindi insomma diciamo se c'è un po l'impressione a volte anche che si facciano passare per rivoluzioni verdi quelli che sono dei cambiamenti ormai quasi inevitabili ma tant'è forse pure meglio da un certo punto di vista perché dico che non ha molto più molto senso andare a cercare e continuare a estrarre petrolio perché ormai sembra che il picco del petrolio sia alle nostre spalle ne parla bloomberg in un lungo articolo che ovviamente vi lascio assieme a tutti gli altri nella pagina della segna stampa di tale che cambia.org sembra che la pandemia con il blocco dei voli in tutto il mondo abbia dato la spallata definitiva all'industria morente del petrolio e sostanzialmente adesso tutte le proiezioni persino quelle delle maggiori compagnie petrolifere vedono un calo delle estrazioni nei prossimi anni che può essere più o meno netto a seconda delle scelte politiche ma comunque si tratterà di un calo insomma l'era del petrolio sembra essere ufficialmente alle nostre spalle cosa verrà dopo ovviamente dipende da noi tutti questi segnali di cui abbiamo parlato oggi sono una serie di cambiamenti che vanno in una certa direzione ma non possiamo ovviamente sapere con certezza in che direzione stiamo andando e in buona parte appunto questi cambiamenti dipendono anche da noi per adesso sono cambiamenti piccoli sono piccoli passi che possono sembrarci non proporzionati allo sforzo che la situazione ci richiederebbe però come sappiamo bene ogni lungo passo no non facevano ogni lungo viaggio anche il viaggio più lungo inizia con un passo quindi detto ciò io vi saluto e vi ricordo che chi si l'assegna è perduto oggi a maggior ragione e vi do appuntamento domani con una puntata di me l'assegno sempre al 10 sempre 10 minuti e di nuovo come il giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto ciao